Sara Smai morì nel 2017, strongata da un mix di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina. Adesso per quell'overdose mortale è arrivata la sentenza d'appello che in sostanza dimezza la condanna di primo grado per il magrebino che quella notte era con lei e che le fornì la droga. Il giovane imputato per spaccio e omicidio colposo era stato condannato in primo grado dal giudice del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo a otto anni e quattro mesi, sei per retenzione di droghe fino in dispaccio e due per morte in conseguenza di un altro reato ma in appello la difesa è riuscita a far derubricare lo spaccio dalla forma più grave, quella del primo comma al quinto, ossia la modica quantità. La pena complessivamente è così scesa a quattro anni e quattro mesi. Il cadavere della ragazza fu ritrovato la mattina dell'11 marzo in un casolare di cesa nel comune di Marciano della Chiana. era nuda, riversa sul letto e lasciata morire da sola dai due magrebini che scapparono senza chiedere aiuto. Uno dei due pusher, sempre accusato per la morte della giovane e ancora latitante, si tratta di un 31enne tunisino da tempo ricercato su tutto il territorio nazionale ed adesso atteso per l'11 giugno di fronte al GUF.